Comunque vada, sarà un insuccesso della politica e soprattutto della politica locale. Quanto sta avvenendo con l'ennesimo rimpasto all'interno della giunta tedesco, che sta comunque stabilendo un record in tal senso, rappresenta l'ennesima dimostrazione di come Civitavecchia e i Civitavecchiesi continuano ben poco, anzi quasi nulla. Il discorso a nostro parere non è quello di vedere chi si è indebolito o rafforzato. Lo stesso sindaco tedesco, che appare all'angolo dopo quello che è apparso come un vero e proprio commissariamento romano, probabilmente alla fine uscirà rafforzato dal nuovo turbiglione in seno al governo cittadino. Avrà la possibilità di governare per altri due anni e mezzo, contando su una maggioranza non esigua, come quella che aveva guidato negli ultimi mesi. E i cittadini lo sperano di mettere finalmente a segno qualche punto del programma col quale si era presentato agli elettori oltre 30 mesi fa. Il discorso quindi non è vedere quale personaggio ha vinto o perso in questa ennesima rappresentazione degna di quello che una volta era l'amato a ma spettacolo. Il discorso, che va avanti ormai da tempo, è constatare con estrema amarezza come a livello locale si conti sempre meno. Le decisioni importanti che riguardano cività vecchia, belle o brutte che siano, vengono assunte altrove. I politici locali di qualsiasi schieramento vengono telecomandati da Roma. Sono i loro referenti capitolini a indicare la linea. In campo locale i nostrani devono solo combattere la battaglia delle tessere, per la quale alcuni si mostrano da sempre particolarmente preparati e ben dotati di sofisticate munizioni. Il resto sono chiacchiere. Finché, dunque, Civitavecchia non sarà in grado di avere, all'interno dei partiti e dell'amministrazione comunale, una vera classe dirigente, riconosciuta come tale e soprattutto autonoma nelle proprie scelte, non bisognerà falsamente scandalizzarsi delle situazioni che ciclicamente vengono descritte nella cronaca politica locale. Cambi di casacca dei personaggi politici, rimpasti più o meno frequenti e sindaci sfiduciati continueranno ad essere gli ingredienti di un processo politico che tutti giudicano difficilmente digeribile, salvo poi dimenticarlo quando periodicamente vengono chiamati alle armi, ovvero alle urne.